L'allenatore pescarese del Sassuolo Eusebio Di Francesco è stato insignito del premio penne per l'orgoglio abruzzese nell'ambito delle manifestazioni del premio letterario internazionale città di penne mosca. Ieri nell'aula a Magna della facoltà di psicologia del campus di Chieti il tecnico degli emiliani ha incontrato i ragazzi in un convegno moderato dal professor Antonio Sorella direttore scientifico del premio a cui hanno partecipato i componenti della giuria tecnica composta da Duccio, Vincenzo Livieri e Marco Papa, il rettore dell'università di Chieti Carmine Diglio, il direttore del disputer Livorno Stupia e Gaetano Bonetta direttore del dipartimento di scienze filosofiche pedagogiche ed economico quantitative dell'università di Chieti. Infine il riconoscimento è stato consegnato al mister del Sassuolo nella sala consigliare del comune di penne. In un momento di globalizzazione in tutto il mondo stiamo scoprendo che poi è dal locale che deve partire la globalizzazione quindi il glocal come lo chiamano gli americani e senza questo non si va da nessuna parte. È per quello che noi abbiamo cercato di inaugurare questa sezione nel modo migliore con Eusebio Di Francesco che è una persona di grande fama in Europa, nel mondo oltre che in Italia ma soprattutto una persona di valore umano e in Abruzzo ce ne sono proprio da vendere di persone così che sono apprezzate in tutto il mondo e che magari noi stessi abruzzesi non conosciamo ed è un peccato. Ecco perché noi vogliamo far conoscere agli abruzzesi i meriti dei grandi abruzzesi proprio in Abruzzo trovare quelle energie, quelle fonti di energia psicologica